Non un accoglimento della proposta, ma forse un primo passo in avanti. Il presidente della LN di Puglia, Vito Tisci, ha risposto alla lettera aperta inviata di l'Unione Calcio Biceglie. Il club azzurro nei giorni scorsi è stato il primo del campionato di eccellenza a chiedere ufficialmente la sospensione definitiva della stagione, per tutelare così la salute e la posizione dei tesserati durante l'emergenza coronavirus. Il numero uno della massima categoria regionale ha confermato la posizione già comunicata in precedenza. La sospensione definitiva dei campionati non si può applicare in autonomia, ha spiegato Tisci nella sua risposta, ma comprendo perfettamente il momento di incertezza e le difficoltà espresse dalle società. Con il nuovo decreto del 26 aprile, anche l'eccellenza naviga a vista e attende risposte dai piani alti. Per Tisci è importante mantenere unità d'intenti e lucidità. La salute dei tesserati è la nostra priorità, ma non possiamo fare altro che attendere il risponso delle autorità governative e sanitarie competenti. Il rispetto del protocollo medico-sanitario è uno degli aspetti maggiormente presi in considerazione dal presidente della LN di Puglia, che rimanda ogni decisione alle prossime settimane e soprattutto al parire degli esperti. L'Unione Calciobiceglie, però, ha smosso lo stallo dell'ultimo mese, prendendo chiaramente posizione sul futuro dell'eccellenza. Tisci ha ringraziato la società del presidente Pedone. Mi farò portavoce di questa richiesta. Qualora venga richiesta la mia opinione, nel consiglio direttivo lavoreremo per trovare la soluzione migliore. Una soluzione che le società sperano arrivi in tempi utili per programmare il finale di stagione o il prossimo campionato.